vai massimi sì sì ti seguo chi vuole giusè guarda ragazzi buongiorno stiamo facendo benedetto siamo a massa marittima ho fatto già tante discese questa dovrebbe essere l'ultima della giornata ora guarda Giuseppe, dicevamo, benedetto. Io mentre sto nel trail mi aggiusto il casco con la mano lasciando il manovrio, pensate in che condizioni. Un divertissimo trail, veloce. Madonna. 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 Piano, perché sono queste parole brutte? Ma che cazzo fai? Mannaggia, troia. Ma secondo me era tuo. Vabbè, come si è inventato sta stronzata. Lo vedevo più pulito. Ho la riacchia qua. Hoi. 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 Sì. Ragazzi, vi volevo informare delle ultime novità sulla bici. Ho chiuso l'angolo, quindi flip chip chiuso, ma non so se ho fatto una stronzata. Ho allungato la forcella a 180 mettendo un air shaft del tipo Zeb nuovo 2023 quello dorato per capirci. Pertanto ho alzato la bici così evitiamo di toccare. Mi sembra che la manovrabilità non sia peggiorata. Sicuramente non è migliorata perché sono più alto, devo pierci un po' più confidenza, ma... Uh, sti alberi! a forma di alberi. Sandro in fuga! Eh dai, eh! Dammi sto pugnetto! Massa marittima! Il paradiso del biker! E questo ha addrizzato tutto! Oh! questo l'equilibrio! Ho perso le parole! Dicevo, ho allungato sta forcella. Mi sto trovando molto, molto bene! Ma l'ho fatto non perché 170 non bastardo, perché tanto io non è che salto è molto ampissimo. Eh sì! Ma direttivo! Eh sì! Vabbè qui Tutto molto rilassante Vabbè